Sì, siamo qui per la meravigliosa raccetta di Homestead per l'ultimo evento di Florida Winter Series. Per questo evento abbiamo definito la raccetta come l'info parte più un'altra parte della banca dell'ovale. I motoristi sono qui dopo aver compito 9 raccettati e saranno molto competitivi in questo raccettato perché la necessità di usare il slipstream, il game speed per l'ovale sarà cruciale per la qualità e per la raccettazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.